Salve a tutti, oggi ci incontriamo per un video leggermente diverso dopo oltre 104 video prettamente specifici per il concorso docenti desidero fare un video, lo chiamo a scuola di covid e questo video può essere utile sicuramente a tutto il personale docente che come me, come voi, stiamo vivendo questa situazione con difficoltà perché sì, nella scuola secondaria di secondo grado è vero che c'è la didattica a distanza ma è anche vero che i laboratori in molte scuole sono rimasti aperti nelle scuole medie c'è la didattica a distanza ma in realtà dipende dalle regioni dipende dalla zona gialla, arancione o rossa alle scuole elementari, alle scuole materne vige l'obbligo di mascherina ma la mascherina è obbligatoria solo per i bambini oltre una determinata età e quindi di fatto qual è cioè l'idea che mi sono fatto che il grosso limite della scuola che di per sé non rappresenta un luogo dal quale parte il coronavirus ma purtroppo è un luogo nel quale arriva il coronavirus e rischia di prolificare anche perché non c'è tracciamento anche perché i giovani sono percettualmente le persone con il più alto tasso di asintomaticità e quindi anche per questi motivi la scuola non ha difficoltà in questo periodo a garantire i servizi che sono a mio avviso fondamentali per i ragazzi perché ovviamente ci sono anche problemi di ordine di salute pubblica comunque veniamo a noi facciamo qui uno schemino regione gialla e possiamo usare l'evidenziatore giallo poi c'è la regione arancione e infine la regione rossa cerchiamo i nostri colori devo prendere l'arancione zona arancione prendo il rosso zona rossa come avete sentito il nostro presidente del consiglio ha detto non ci sono zone verdi perché il covid è in uno stato emergenziale cioè siamo in una situazione emergenziale in tutte le regioni quindi lo stato di attenzione deve esserci per tutti allora gli spostamenti spostamenti all'interno del comune ovviamente nella regione gialla si si possono fare nella regione arancione si all'interno del comune nella zona rossa la regione rossa lo spostamento è ammesso solo da adesso in poi utilizzo la parola solo e per parola solo indico che lo spostamento lo scrivo qua solo sta per solo quindi lo spostamento è ammesso solo per comprovate esigenze lavorative motivi di salute ad esempio una visita medica importante motivi di studio un concorso situazioni di necessità di vario genere che vengono indicate nel modulo quindi scriviamo necessità perché ovviamente ci possono essere tante situazioni di necessità che magari non sono circoscritte al lavoro alla salute allo studio che vanno indicate nel modulo di autocertificazione tutto questo è stato fatto per non per abbassare la curva ma senza creare un nuovo lockdown per motivi ovviamente di natura economica sappiamo che quanto è stato importante il precedente lockdown probabilmente è arrivato in ritardo però è stato importante perché ci ha salvato ha salvato molte vite però è stato purtroppo a me anche di rilievo più che importante perché ha fatto perdere anche tanti posti di lavoro e ha messo in crisi tantissime persone quindi ci si ritrova sempre a fare la scelta del diavolo tra la salute soprattutto dei più anziani i quali il più delle volte non sono in età lavorativa e dei più giovani che o perdono la possibilità di diritto allo studio diciamo normale o di tutta quella fascia di lavoratori che con i pagamenti delle tasse ci garantisce poi la possibilità di curarci poi spostamenti nella regione regionali allora in realtà solo nella regione gialla qui dobbiamo mettere solo evidenziando che ci vuole essenziale l'autocertificazione spostamenti in altra regione quindi spostamenti interregionali poi fuori regione allora in questo caso si se è verso il giallo giallo si verso mettiamoci un colore verso il giallo assolutamente possiamo verso altre regioni gialle solo ossia abbiamo dei limiti se le regioni sono o arancioni oppure rosse solo significa ovviamente solo se ci sono esigenze lavorative di salute di studio di necessità o di altra natura di necessità e vanno comprovate tramite modulo di autocertificazione e qui invece solo solo spostamento nelle seconde case ovviamente si segue un pochettino il modulo del fuori regione allora nella regione rossa è giustificato per il tempo strettamente necessario all'intervento cioè se c'è un'urgenza un guasto che mette a rischio l'abitazione e deve essere dimostrato sempre tramite autocertificazione vedete qui quindi necessità di altra natura ovviamente per la seconda casa scrivo qui seconda casa stiamo al quarto rigo quindi questo è il primo questo è il secondo questo è il terzo qui c'erano due sotto casi adesso stiamo al quarto rigo poi regione gialla viene può essere fatto se la seconda casa è nello stesso comune quindi si se stesso comune oppure no fuori dal comune di residenza o di domicilio e quindi ci vuole il modulo di ausocertificazione solo se c'è quindi si può andare solo se c'è un'urgenza riprendiamo seconda casa in realtà ci sono delle limitazioni anche per la zona gialla allora ci si può andare se si resta in zona gialla quindi si se giallo quindi da giallo a giallo quindi bisogna rimanere assolutamente nella zona gialla se la seconda casa si trova in zona arancione o in zona rossa c'è il solito modulo per le emergenze solo se rosso o arancione e questo è la quarta richiesta 1 2 3 4 poi ci sono gli spostamenti per andare ad assistere una persona in difficoltà quindi nella zona rossa allora assistenza per assistere una persona in difficoltà partiamo dalla regione gialla ovviamente se si rimane in zona gialla si si se è giallo riuso un pochettino i colori me lo cancella allora riscrivo giallo ce lo scrive sopra devo usare il metodo evidenziatore e devo riprendere il giallo ok e mi son perso il nero e me lo devo andare a riprendere ok poi se invece la zona è arancione o rossa ci vuole l'autocertificazione quindi solo negli altri casi quindi se rosso o arancione andiamo avanti spostamenti quindi per andare ad assistere una persona in difficoltà se si trova nel proprio comune di residenza o domicilio quindi da arancione rimane arancione si si se nel proprio comune di residenza o domicilio altrimenti solo bisogna avere l'autocertificazione l'autocertificazione nella regione rossa nell'autocertificazione va indicata la destinazione quindi indicazione destinazione e ovviamente quindi rientra nello stato di necessità va indicato ovviamente il motivo ma non vanno indicate le generalità della persona in difficoltà per motivi di privacy quindi ricordate che non dovete dire sto andando da tizio poi mi è rimasto vediamo quanto spazio credo ah praticamente nulla anzi no qualcosa ancora ce l'ho quindi ancora qualcosa vi posso scrivere vediamo quello che si può fare dai aggiungo qualche cosa che si può fare poi se volete farò nuovi video di delucidazione spostamento per portare i figli e i nipoti a scuola se la scuola è in presenza quindi portare i figli a scuola si può a scuola allora nella regione gialla assolutamente si ovviamente figli e nipoti nella zona arancione ovviamente si nella zona rossa è ammesso anche se sconsigliato portare i figli dei nonni e andare a ripendere in caso di estrema necessità perché ovviamente figli e nipoti se vanno i nonni ovviamente sono i nipoti si ma sconsigliato sappiamo che la popolazione più a rischio è una popolazione che ha unità sono coloro a rischio sono quelli che hanno unità maggiore poi ci sono spostamenti per passeggiare con il cane si nelle zone gialle e arancione e ovviamente poi ci sono anche situazioni per fare le passeggiate l'attività motoria nella zona rossa è consentita nei pressi dell'abitazione anche in parchi pubblici e presso aree attrezzate all'aperto rispettando il distanziamento e con la mascherina poi andiamo all'ultima parte sport ovviamente il dpcm è molto lungo io vi sto facendo una estrema sintesi e ci siamo persi anche il caruccio orsetto ormai diventato divertente per molti ce lo stiamo perdendo perché siamo andati troppo in brasso ma ce lo possiamo vedere se riduca un pochettino lo zoom lo sport quindi spostamento per attività sportiva all'aperto ovviamente si va sempre rispettato il distanziamento restano aperti i centri e circoli sportivi ma è interdetto l'uso degli sfogliatoi questo per la regione gialla quindi jogging andare in bicicletta eccetera eccetera sì per la regione arancione va sempre rispettato il distanziamento cioè sì però con rispetto del distanziamento restano aperti i centri circoli sportivi ma sono interdetti gli utilizzi degli sfogliatoi quindi sì ci metto un asterisco perché ci sono queste limitazioni nella zona rossa è consentita l'attività sportiva all'aperto in forma individuale nei pressi di casa rispettando il distanziamento di due metri mentre ci si allena si esenti dall'utilizzo della mascherina quindi sì questa volta con due asterischi perché ci sono più limitazioni bene se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale per questo video creerò una nuova playlist attualità credo forse probabilmente presente e alcune considerazioni finali a cui ormai vi ho abituato viviamo in un periodo particolare dove le notizie circolano molto in fretta dove siamo bombardati da queste notizie a volte allarmanti si vanno da quelle di Diego Fusaro a quelle di diversi canali di Youtube che parlano addirittura di situazione grave in quanto stiamo perdendo la libertà in quanto con la scusa del Covid chissà che cosa possiamo rischiare insomma hanno queste notizie hanno carattere di complottismo ovviamente sono notizie che a mio avviso è giusto ascoltare prendere in considerazione ma è giusto ovviamente riflettere poi con la propria testa se possono avere veridicità vi ricordo che verso marzo aprile ci fu un'esercitazione degli USA che sarebbe passata assolutamente inosservata e sempre questi canali che peraltro io seguo e mi piacciono però questi canali avevano adesso non ne parlano più perché secondo me hanno cioè hanno allarmato tutti in maniera inutile e praticamente parlavano di possibile terza guerra mondiale possibile compreso Diego Fusaro non so se lo conoscete io non sono assolutamente contro di loro anzi parlando di loro sicuramente gli faccio pubblicità però sappiate che radio radio fan page ci sono tanti di questi canali che sono indipendenti diciamo che il loro punto di forza è l'indipendenza quindi vi dicono cose che magari non dico che sono censurate dagli altri giornali o telegiornali però vi danno notizie che magari non potete trovare a mio avviso a volte sono inquietanti e a volte portano fuori strada perché la maggior parte delle volte non ci azzeccano per quanto riguarda la destra e la sinistra io vedo che da parte di Salvini della Meloni praticamente va sempre male tutto cioè quando si volevano chiudere le discoteche fecero manifestazioni perché la musica l'arte la cultura non andava chiusa erano contro questo stato di emergenza erano contro tante cose poi adesso che ovviamente c'è necessità di queste misure la Meloni si è messa anche secondo me in maniera poco elegante a parlare del covid io lo dico covid non so come come uscita insomma questa moda tra Barbara D'Urso e quella inchiesta forse anche poco rispettosa per tutte le persone che sono morte ma non è che la sinistra è da meno la sinistra per quanto riguarda oggi l'ho pubblicato sulla mia pagina per quanto riguarda l'apertura di di un ospedale con fondi privati dove denunciavano che tanti milioni erano stati persi perché vi erano in cura pochissimi pazienti adesso si parla già attualmente di 60 pazienti e spresso si potrà arrivare a 150 160 il limite badate bene non è solo rappresentato dalle caratteristiche intrinseche della struttura ma è un problema anche di organico cioè purtroppo tanti tagli che sono stati fatti alla sanità non vengono fatti alla sanità solo come struttura ma anche come medici come operatori sanitari come infermieri ovviamente se la struttura c'è ma non ci sono le persone che possono aiutarci ovviamente la situazione diventa drammatica poi come non parlare di quel video diventato virale in cui il paziente in un ospedale di Napoli è stato trovato morto dentro il bagno e ovviamente è una situazione pochettino drammatica in tutto ciò ovviamente abbiamo capito che c'è una stretta correlazione tra il covid e la propaganda politica e quindi abbiamo assistito alla vittoria di Biden negli Stati Uniti e subito dopo è uscita la notizia della casa farmaceutica per cui vi è un vaccino sicuro al 90% poi sicuro al 90% bisogna vedere l'efficacia è sicura al 90% ma hanno detto ben poco sugli effetti collaterali l'Italia da gennaio dovrebbe avere già una piccola scorta di dosi credo un milione un milione e mezzo ovviamente non basterà per tutti e penso che ci sarà sarà stilato un elenco di priorità per curare insomma le persone più soggette a rischio e che altro dire vabbè c'è stato lo scandalo calabrese se non l'avete visto potete andarlo potete dargli un'occhiata per cui il commissario non si è preparato per il piano covid è una cosa abbastanza triste ma il caso covid ormai interessa anche il calcio il quale ovviamente ha perdere tantissimi introiti e c'è stato per esempio anche il caso della Lazio che è sotto osservazione per presunte violazioni delle procedure covid quindi niente ormai tra il Cardarelli di Navoli l'assessore Gallera in Lombardia per la gestione emergenza la fuga dagli ospedali campani l'esodo verso le strutture del Lazio De Luca che litiga e parla di sciagallaggio Di Maio e Boccia che dicono che non è così l'Emilia il Veneto e il Friuli che tentano una stretta per evitare il passaggio alla zona arancione ormai i dati dell'Istituto Superiore di Sanità per cui ovviamente c'è una fase di diminuzione della crescita percentuale e l'indice RT ormai è sotto l'1,5 quindi si può sperare contro sperare che non ci siano di nuovo lockdown allora ci sono veramente tantissime tantissime notizie ovviamente io quello che vi dico è prendetene qualcuna approfonditela non non vi ingozzate non fate un'indigestione di notizie perché a mio avviso rischia solo che vi confondete le idee perché il rischio che si corre secondo me in una situazione di bombardamento di dati è che poi la nostra mente non ce la fa più e state attenti ai maghi del marketing cioè a mio avviso un canale una notizia è importante per il contenuto che esse esprime non per gli effetti scenografici per le parole populiste per la rabbia per le grida delle persone per le allusioni che fanno cioè ci sono persone veramente brave a ovviamente cercare di convincerci anche di cose non vere e di quelle persone dobbiamo stare attenti possiamo assolutamente anzi dobbiamo assolutamente invece informarci conosce tutti non essere prevenuti essere avere una mente aperta per cui non è che chi è di sinistra purtroppo si assiste anche a questo difende sempre e comunque la sinistra che è di destra difende sempre e comunque la destra e attacca sempre la sinistra e viceversa questo secondo me non è bello questo giochetto che fanno i politici lo fanno perché anche ci sono ci siamo noi che ci caschiamo tutte le volte bene con questo io vi auguro un grande saluto e ricordatevi sempre delle indicazioni che abbiamo come insegnanti dell'imparare ad imparare del lifelong learning ossia di utilizzare tutta la nostra vita per continuare il nostro processo di educazione e formazione la cultura sono sicuro che ci salverà a presto un saluto caro da Francesco Samani